Famiglia Rizzuto, in vacanza a Ferragosto, a Palumbo City, siamo sul Lagan Pollino, sul Pedalò. Antonio, com'è questa esperienza? Che fai? Com'è questa esperienza da navigatore, del Pedalò? Signora, Ieriti, cosa leggi di bello? La famiglia, non è signora Ieriti. Ecco qua, siamo qui sul Pedalò. Che non gira! Ciao! Questo bellissimo panorama. Da Paradiso Terrestre, vedi, questo lo manca. Mi c'è dentro col Pedalò. Vedi quello con la mano? Non so se siamo assicurati. Sembra una sezione staccata del Paradiso Terrestre. Sempre se nel Paradiso Terrestre ci sia un lago. Dove hai una maglietta qua? Sì. Ma dove arrivano lontano gli altri? No, è 10 centipi solo. Infatti, però abbiamo fatto un giro che l'abbiamo circunnamicato tutto. Guardi che è bello. Non so come si è. Questo non ero io qua da l'altro. Non so come... E la famiglia Ristruto va all'attacco. Obiettivo, inseguimento, Pedalò giallo. A tutto reale, di lago. A 300 chilometri. Sì, 300 chilometri. A 300 metri. Ciao, arriva! Arriva! Dai, fatti mo' dall'altra parte, girate! No, c'è arriva a tutta poffe! A tutta poffe! Ho messo anche i piedi nell'acqua, è peschissima! Io ho messo la testa nell'acqua, è bellissimo! Ho messo anche i piedi nell'acqua! Anche l'acqua, è pescata! Anche le mani, tutto il colpo! Del lago, Ampollino è tutto. Mentre il fiato non mi regge. Un pesce vipera! Aiuto! Stoppogando!